Il carico di un camion è costituito da un cilindro pieno omogeneo di massa M maiuscola e raggio R grande appoggiato sul piano orizzontale scaplo del camion con coefficiente del teostatico pari a mucon S, come in figura. Il cilindro è trattenuto da una fune orizzontale che fissa il bordo del cilindro sulla verticale del centro C ad un vincolo solidale al piano. Tutto il sistema si muove di moto rettilineo con l'accelerazione costante A diretto orizzontalmente e si determina il valore minimo di mucon S, tale che il cilindro resti inquieto rispetto al piano. Si eseguono i calcoli per A pari a 2 metà secondo quadro. Avete visto questo disegnaccio che ho fatto alla lavagna che poi è quello che compare nel testo? Questo è datato il testo del 6 settembre 2010, facoltà d'ingegneria Roma Torvergata. Un problema di meduli di vero, non difficilissimo per la verità. Intanto la domanda è, ma cosa stai intendendo con A? Attenzione che questa A è l'accelerazione di trascinamento, cioè l'accelerazione intende del camion. Quindi conviene metterci nel sistema di riferimento, conviene metterci all'interno del camion, quindi nel sistema di riferimento, nel sistema mobile, camion che si muove, nel sistema non inerziale, perché in questo modo ci sarà, attenzione anche alla forza apparente, cioè ci sarà, supponiamo che l'attrito statico sia diretto così. Questo è A con S. Poi chiaramente c'è la solita forza peso, M grande G, e la reazione R con N, va bene. Questa è T, la tensione di questa fune, e poi c'è anche, attenzione, questa, cioè M per A. Quindi occhio che M per A, forza apparente, sarebbe M per A di trascinamento, occhio. Perché occhio, attenzione che in questo caso, chiaramente ci parlano di accelerazione costante direttamente, quindi direttamente in questo modo. Se questo è il centro, questa sarà la cosiddetta forza apparente, se il cilindro rotola ovviamente in questo, verso destra in pratica, no? Quindi, scegliendo un opportuno sistema di riferimento, opportuno, solito poi, no? x in questa maniera, x in questa maniera, da quello che ci dicono qui, vanno scritte le due equazioni cardinali della statica, però. Perché ci dicono che, ci parlano chiaramente di qui, e adesso il cilindro è trattenuto, cilindro è trattenuto, quindi, attenzione che, dove ci vogliamo mettere qui? Dunque, intanto, io come polo, sceglierei il punto di contatto, no? Tra disco, di disco, perdono, disco, sì, cilindro, questa cosa, ma in tenenza del cilindro è un mezzo MR quadro, tra l'altro. E vogliamo scriverlo? Scriviamolo, ma non ci interesserà, visto che comunque sia la prima che la seconda equazione cardinali sono ugualiati a zero. Le proiettiamo, tutte e tre, lungo y, lungo x, e qua c'è il momento rispetto a P, no? L'asse, il momento, rispetto all'asse che passa per, questa volta, P. Quindi, capite che in questo caso, l'attito statico, la forza peso, la reazione normale, non hanno braccio, perché hanno le rette d'azione tutte quante che passano per quel polo. Le uniche che hanno braccio sono la forza apparente, che ha braccio pari ad R, e la tensione, che ha braccio pari a 2R. Quindi io scriverei che M per A per R, meno T per 2R è uguale a zero. Dalla, cioè, dalla terza equazione, quella, l'ho fatta per prima, nei momenti, dalla quale spesso troviamo le cose, vedete che R e R se ne vanno, che infatti non ci danno, non ci forniscono, troviamo che in sostanza la tensione è un mezzo di MA, che poi è la metà, è la forza apparente, in pratica, un mezzo M per A. A questo punto, abbiamo che, meno M per A, meno la forza apparente, lungo X, più T, meno A con S è uguale a zero. Lungo Y, lungo Y, come al solito, R con N è uguale a M per G, eh? Cosa che, francamente conosciamo. Se avessimo utilizzato l'altro verso, qui avremmo scritto, ovviamente, questo meno MA più MA mezzi, veniva A con S pari a meno MA mezzi, quindi A con S è comunque pari a M, Vabbè, M maiuscolo, comunque, ragazzi, insomma, M grande, io metto M piccolo, vabbè, c'è un M grande e un M piccolo, non vorrei che qualcuno pensasse che no. Viene, se lo lasciavo così, vi sono accorto che veniva negativo, quindi lo cambio, la metà, T e A con S sono tutti quanti M con A mezzi. E quindi, siccome A con S è minore o uguale di A max, vorrà dire che un mezzo di M per A deve essere minore o uguale di M con S per Mg. Capite che M e M se ne vanno, e allora rispondiamo facilmente a questa domanda, di questo problema che è sinceramente semplice, molto semplice, dove, ovviamente, M con S deve essere maggiore o uguale di chi? di A su 2G. G è 9,8 m di secondo quadro, A è 2, viene 1 su G, in pratica, e se fate questo conto, viene un, se lo fate, viene 0,1 circa. Abbiamo risolto facilmente questo problema. Grazie a tutti.